Allora, questo video dovevo farlo perché stiamo parlando di One Piece in questo canale, parliamo sempre di One Piece in questo canale e adesso c'è un argomento che ha monopolizzato tutto, giustamente, perché è un evento incredibile se contiamo che One Piece è un manga che ha quasi 30 anni ed è il live action, è finalmente fuori. Ragazzi, se avete Netflix, se avete l'abbonamento potete guardarvi live action, sembra una pubblicità ma non mi pagano quindi non farò più pubblicità a questa cosa, però oggi ragazzi volevo dedicare un video all'ave action perché chi segue il nostro profilo Instagram lo sa, io sono letteralmente appena tornato da Milano, abbiamo passato la notte lì perché Netflix e l'agenzia Paride Vitali ci ha invitato a vedere l'anteprima dell'ave action di One Piece. Quindi abbiamo visto quest'anteprima, questo evento è stato molto figo in realtà, ci siamo divertiti, infatti voglio salutare intanto l'agenzia che ci ha contattato, quindi anche Netflix e anche i ragazzi che abbiamo trovato lì, con cui abbiamo parlato, devo dire una cosa e qua ragazzi scusate se non c'entra con l'ave action ma questo è un piccolo flex che mi voglio prendere tutte le volte che ho incontrato qualcuno di voi per strada, non solo nella strada di ieri, sempre persone educatissime, quindi io sono seriamente fierissimo della nostra community e vabbè questo non c'entra niente, però comunque risaluto i ragazzi che ho incontrato ieri, ci siamo anche divertiti, vabbè forse vedrete anche dei contenuti magari tra un po' di tempo. Io non parlerò in questo caso, in questo video, di quello che è successo ieri sera, per quello magari ne parliamo o stasera in live, alle 20 ci vediamo in live sul canale Viola, trovate il link in descrizione, e trovate il link in descrizione anche perché faremo proprio la reaction al live action, difatti le cose che io sto per dire in questo video qua sono dei concetti che vanno al di fuori di quello che vediamo, non sono recensioni di episodi, perché quelli arriveranno perché monterò le live che faremo, va bene, sicuramente daremo delle opinioni, io e la mia ragazza sapete che cercheremo di dare queste opinioni da una persona che è esterna, One Piece è una persona che invece lo vive un po' di più, ma voglio parlare proprio di cose che vanno al di là di quello che vediamo negli episodi, quindi negli avvenimenti, è un po' più particolare, quindi mi riferirò principalmente ai primi due episodi, ma attenzione, visto che questo canale qui è un canale dedicato principalmente al manga, io dovrei dare per scontato che voi sapete già che cosa succede nei primi episodi, ma visto che si parla dell'live action e visto che comunque anche ieri sera per esempio c'era gente che il manga manco lo legge, verosimilmente non guarda manco l'anime, secondo me è giusto andare un pochettino più cauti, quindi questo video sarà no spoiler, questa cosa bruttissima, anche perché stiamo parlando di una roba vecchia 30 anni, quindi potremmo spoilerare, ma cercheremo di fare nessuno spoiler, anche perché come ho detto oggi si parla di cose extra storie, ok? Allora ragazzi, io direi di cominciare e vorrei cominciare dal primo concetto, una cosa veramente molto molto importante, che è banale ma in realtà si porta dietro di sé un grandissimo significato per me, che questa volta la storia di One Piece non solo è raccontata con un linguaggio diverso, ma è raccontata anche su Netflix. Allora, perché cito Netflix? Ora, voglio prendermela un pochettino larga, questa è una cosa un po' personale, ecco vi dico la verità. Una cosa che io faccio spesso quando amo una persona, quando gli voglio tantissimo bene, è cercare di passargli anche le cose che io amo, quindi per esempio il modo in cui io mi intrattengo, eccetera eccetera eccetera, ok? Col mondo della cultura pop, vabbè, si può fare in 3000 modi, io però penso a due persone che io qui voglio tantissimo bene, che però non sono avvezzi né all'animazione né alla lettura dei fumetti, e sono mio padre e la mia ragazza, allo stesso modo, li metto allo stesso piano in questo caso, perché a entrambi un po' piace ogni volta quelle cose che gli passo, quindi magari, per esempio, non so, i cinecomics riescono un pochettino ad andare incontro a questa cosa, ma con One Piece è veramente impossibile per entrambi. La mia ragazza, difatti, non ha mai letto un manga in vita sua, non ha neanche mai visto un anime, quando gli chiedo il perché mi dice, semplicemente, io dalla bambina uscivo a giocare, e c'ha ragione, perché io no, allora io dico, allora, c'hai ragione, ed è proprio il motivo per cui la reaction la faremo con lei, perché lei toccherà questa storia per la prima volta in diretta, quindi ha senso anche questo, però è questo il bello, ragazzi. Se voi siete fan di One Piece, se voi amate One Piece, secondo me è quasi biologico voler portare questa storia che noi amiamo, e che in certi casi ha anche cambiato un pochettino la nostra vita. La mia l'ha cambiata in 3000 modi alle persone che noi amiamo, che magari però non sono avvezzi a questo tipo di linguaggio, a questi tipi di linguaggi, che sono quindi sia il manga che l'anime. Il fatto che ora sia su Netflix è una cosa positiva, il fatto che sia un live action è ancora più positivo, perché comunque ha delle regole ben precise, sicuramente è un linguaggio diverso, ma alla fine quello che importa nella storia, ok, in quello che è la storia di One Piece, sono i concetti chiave, le cose chiave che succedono, quindi le cose principali, soprattutto i personaggi, la loro storia, la filosofia che si portano dietro. Io vi dico già, se voi andate a vedere questo live action col manga in mano, allora sicuramente rimarrete delusi, ma qua non è il live action che sbaglia, siete voi che sbagliate perché si sta parlando di un linguaggio diverso, quindi voi dovete andare lì pensando a questo. Io guardo questo live action a mente aperta, però pretendo che i concetti chiave, non per forza gli avvenimenti, ma i concetti chiave dei personaggi, degli oggetti, dei luoghi, siano rispettati. E da quello che ho visto io, senza fare spoiler, sì, alcune cose nella storia cambiano, ma non cambia la storia, ok, perché i concetti chiave rimangono. Quindi si cambia il linguaggio, ma questo mondo, questa storia e questa avventura riusciranno comunque a andare negli occhi, nella testa, nel cuore anche delle persone che per forza di cose, per abitudine, non si leggeranno mai il manga, perché ovviamente non possiamo costringere le persone, e non si guarderanno mai unanime da mille passi episodi, perché anche lì non possiamo convincere le persone. Però comunque alla fine, se One Piece ci deve insegnare qualcosa, è proprio il concetto di ciurma, il concetto di famiglia, io non apprezzo neanche quando magari c'è qualcosa che noi amiamo, che è una sottocultura, non apprezzo le persone che invece rendono le nostre storie, quindi questi personaggi, un qualcosa di elitario. One Piece deve essere visto da più persone possibili, deve essere comunicato al mondo, perché veramente a volte può cambiare veramente delle vite, quindi secondo me è già una figata a prescindere da questo. Numero 2. Secondo me, quando si parla di Netflix e dell'avection, potremmo avere lo stesso effetto che ha avuto l'anime di One Piece. Allora, moltissime persone, quando è uscito il trailer, io leggevo questi commenti, a me veniva un pochettino da sorridere, della serie, ah, questo live action non ha senso, non sarà assolutamente simile all'anime, e io a volte penso, ma in realtà questo salto di linguaggio c'è già stato, c'è stato tra manga e anime. E attenzione, voi poi magari mi direte, eh però Marra, guarda che tra manga e anime il salto è abbastanza facile, io però vi posso dire più o meno, perché si aggiungono i colori, si aggiungono le voci, si aggiungono i movimenti, cosa che nell'avection teoricamente ci sono già, anche se ci sono gli attori, ma vabbè, comunque a prescindere è un linguaggio diverso, ok? E in più, l'anime ha fatto delle, delle, degli inciampi nel corso degli anni, improponibili, secondo me. Poi, io non voglio neanche essere quel tipo di persona che gli va a dire, no ragazzi, voi dovete leggervi il manga perché il manga ha il sapore della carta è più importante. No, voi dovete godervi la storia come vi piace a voi. Punto. Questo è quello che dovete fare, se dovete fare qualcosa. Questa è l'unica cosa. Però, comunque, per noi fan del manga, che ora quindi siamo in pari, e ci leggiamo il capitolo a settimana, e tra l'altro, la lettura del capitolo è una cosa quasi rituale per noi, un momento quasi di ritrovo. Questa è una cosa positiva, perché io sono sicuro che questo live action farà avvicinare gente al manga, ok? Qui voglio citare, tra l'altro, voglio salutare anche i ragazzi del Biker Raft. Ieri ho incontrato Curoteo alla serata dedicata all'live action, ho guardato le loro storie, e c'era un commento che hanno ripostato di una persona che diceva questa serie mi sta piacendo per adesso, molto probabilmente passerò il manga. E questa è una vittoria, secondo me, per noi. E perché dico che fa lo stesso effetto dell'anime? Perché l'anime ha fatto così, ragazzi. L'anime è inutile che ci giriamo intorno. Credo che la maggior parte delle persone che ora leggono il manga di One Piece in Italia, ragazzi, hanno cominciato con l'anime, perché semplicemente era un cartone animato che stava nella routine nostra giornaliera. E io mi metto in mezzo, ora che io, tra l'altro, l'anime quasi non riesco più a guardarlo, perché è così, ma funziona così, ed è giusto che sia così. Ed è una cosa, secondo me, super positiva. Come vi ho detto anche prima, io non sono per rendere elitario la nostra cultura, quello che rappresenta, anzi, deve essere qualcosa di importante, deve essere qualcosa di condiviso da tutti, deve essere qualcosa che amiamo tutti insieme. Ok? Quindi, secondo me, questo, l'ideaction, anche sotto questo punto di vista qua, potrebbe far arrivare nuovi fan, far ampliare questa famiglia, questa community immensa, che è già quella di One Piece qua in Italia. Anche perché, diciamocelo chiaramente, l'anime, se voi lo guardate in giapponese, magari sottotitolato, è indietro di circa un anno rispetto al manga. Ma ora che è finita la serie, che arriva solo fino alla fine dell'Est Blue, invece i ragazzi che magari vorranno seguire solo live action, dovranno aspettare, credo, vent'anni prima di arrivare a Onigashima, almeno, o a Egghead. Credo che in realtà questa serie non durerà così tanto, non so, una parte di me mi dice che non durerà così tanto. E poi, ragazzi, io veramente voglio concludere questo video con un piccolo consiglio, proprio derivato da quello che abbiamo visto ieri sera, soprattutto del come, secondo me, si deve guardare questo live action. Questo live action, questo è veramente un consiglio da amico, ormai io vi considero amici, visto che ci sentiamo praticamente una volta al giorno, come minimo, da un po' di tempo, questo live action voi dovete guardarlo con gli occhi di un ragazzo, ok? Io vi dico la verità, alcuni di voi che seguono questo canale da più tempo, che hanno seguito anche il breve format delle tier list, che ormai non porto più, sanno benissimo quanto io sia affezionato alla parte dell'Est Blue, soprattutto alla parte di Arlong Park, e comunque tutta la parte iniziale, ecco, per me è molto importante, perché una cosa che vuoi o non vuoi mi legherà sempre a One Piece è che è uno dei miei ultimissimi ricordi di infanzia, nel senso che è un ricordo di infanzia che certo esiste come tanti altri, ma che, attenzione, ancora vive, ok? E soprattutto quella parte lì a me personalmente mi fa pensare a me da ragazzino, che guarda One Piece con gli occhi giusti, ok? Perché anche adesso One Piece, secondo me, deve essere letto con gli occhi di un ragazzo, certe volte, certe volte sì, certe volte no, ma alla fine stiamo parlando di quello, soprattutto la prima parte, quindi soprattutto quella dell'Est Blue, invece, deve essere vista così, perché questo live action qui, secondo me, esattamente come ha fatto l'anime a molti di noi, come ha fatto il manga a molti altri di noi, può fare la stessa cosa con tanti altri ragazzi, cioè può infondere speranza, divertimento, voglia di avventura e soprattutto la cosa principale, la cosa più positiva di tutte in One Piece, può permettere di credere ai propri sogni e questo è un concetto che secondo me nella prima parte dell'Est Blue c'è, c'è tantissimo anche in questo live action e visto con gli occhi giusti e non una mente veramente avvelenata di critiche che cerca solo ed esclusivamente la citazione al manga per poi parlarne online, secondo me se la vediamo invece un po' più easy, un po' più tranquilla, un po' come dovrebbe essere vissuto One Piece, questa è proprio una serie molto molto godibile, ok ragazzi? Allora, questo video sembra quasi delirante, me ne rendo conto, sapete che una volta al mese più o meno ci sono questi video in cui impazzisco, sarà perché sono stanco morto, ma ragazzi, io volevo fare un video proprio così, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi ripeto una cosa, ci vediamo questa sera alle ore 20 su Twitch, quindi ragazzi mi raccomando non mancate, saremo io e la mia ragazza, parleremo dei primi episodi, i primi due, quindi non reagiremo a quei due, semplicemente ne parleremo, reagiremo all'episodio 3 e all'episodio 4, poi ci vediamo domani e anche dopo domani e concluderemo questa serie, il video montato della live uscirà invece settimana prossima con molta molta calma, ok ragazzi? detto questo, io vi saluto, vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video, vi voglio anche bene perché ieri finalmente ho visto qualcuno di voi, è stato bello, credo che questa nuova stagione ci vedremo un po' di più in giro, ma non voglio fare troppi spoiler, e niente ragazzi, mi raccomando, fate i bravi e noi ci vediamo prestissimo con altri contenuti ovviamente a tema One Piece, ciao a tutti ragazzi! Grazie!